speciale sanremo 2023 con stefano fisico l'appuntamento con speciale sanremo 2023 su radio roma che parla del festival con i protagonisti del festival e tra questi c'è anche francesco sarce delle vibrazioni ciao france protagonista no sono ospite un ospite ascolta ma tu quel palco lo conosci lo conosci molto bene quindi sei un protagonista conosco bene il retro palco io quello sei benissimo com'è tutto a posto che bello senti a vederti io guarda non ci provo neanche perché il mio milanese potrebbe essere un pessimo romano quindi assolutamente non ci provo volevo chiederti una cosa allora qualche giorno fa ho avuto modo di fare quattro chiacchiere con con checco dei moda che era letteralmente invisibilio per il fatto che finalmente poteva fare qualcosa con voi ed era molto felice del fatto che su quel palco saliranno dei gruppi che comunque hanno fatto la gavetta cantando ovviamente un super pezzo come è nata questa cosa che che nessuno si aspettava fondamentalmente allora è nata perché checco mi ha chiamato mi ha fatto questa proposta e mi ha veramente in una maniera positiva c'è lasciato di stucco perché di solito noi viviamo tutti sempre questo grandissimo idea che tra le band e tra gli artisti non ci sia una connessione quando in realtà magari in giovinezza può anche essere nell'epoca però si parla di anni dove in realtà nonostante facessimo le stesse cose poi si usciva dalla cantina e quindi diventava tipo canino che poi dopo ci si vede e siamo tutti in freno e invece dopo tanti anni il fatto di ritrovarsi su un palco e il fatto che checco mi abbia chiesto di fare una cosa del genere un gesto di una grande intelligenza di un grande rispetto che mi ha veramente profondamente riempito e quindi non ho esitato a dirgli assolutamente sì perché è stato veramente meraviglioso cioè come idea è un'idea molto bella e ci vedono appunto le due band quindi unite facciamo la stessa cosa lo facciamo da tanti anni siamo quella roba lì capito quindi è bello che ci sia questa tradunione come si suol dire quindi checco è stato veramente fenomenale devo dire Speciale Sanremo 2023 su Radio Roma perché Sanremo è Sanremo le canzoni del festival di Sanremo le potete ascoltare anche su Radio Roma per questo speciale Sanremo che vede i gli artisti i cantanti e coloro che sono i protagonisti come dico io del festival pronti a fare quattro chiacchiere con noi in questo caso Francesco delle Vibrazioni come stai? tutto bene tutto bene grazie grazie ascolta allora io devo chiederti una cosa proprio per il rapporto che abbiamo tu sei uno sempre diretto e onesto quindi ti chiedo eh beh per forza ci conosciamo io rido perché devi stare attenti a ciò che uno mi chiede esatto senza filtri no 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 assolutamente ti chiedo secondo te una vita senza filtri tutti stessi eh assolutamente ti chiedo secondo te chi vince e in realtà per chi fa il tifo? allora vedi adesso ti rispondo onestamente io neanche quando lo faccio Sanremo so chi partecipa figuriamoci questo giro tranne ovviamente i Modà che sono no cioè la band con rispettiva che rappresenta un movimento come faccio quindi io ovviamente ti ferò per i Modà poi eh no poi ci sono altri che che c'è non lo so sì però sai cosa io faccio voglio eliminare perché se no poi ti viene su quest'ansia questo Toto Sanremo a me non me ne fregano è mai fregato niente non me ne frega nemmeno quest'anno comunque è il festival e a prescindere dalla gara è il bello che ci sia comunque innanzitutto un festival della musica italiana e quindi questa roba è già una grande cosa è bello vedere questa Kermess fondamentalmente quindi già che sei là è già un buon punto di partenza dopodiché la vittoria sappiamo è relativa e adesso guarda se faccio una supercazza no ma infatti volevo dirti volevo farti complimenti volevo farti complimenti perché a fuori andare avanti in questi anni che ci conosciamo sei diventato bravissimo a fare sei diventato un calciatore dribbli alla grandissima sì sì amici miei atto primo mi fa una pippa diciamo sulle supercazzo speciale Sanremo 2023 su Radio Roma perché Sanremo è Sanremo questo è Radio Roma questo è lo speciale Sanremo e questi sono i protagonisti e gli artisti appunto che fanno parte di questo cast di quest'anno in questa occasione di venerdì si esibiranno i modà insieme a Francesco che è qui con noi allora Francesco ti faccio una domanda un po' specifica questa è molto difficile mi raccomando ti voglio concentratissimo tu sei perennemente in tour quindi se io dovessi scrivere due tipologie di libro ovvero una guida Michelin oppure con i ristoranti migliori oppure una o fare una un programma televisivo in cui mi viene raccontata l'Italia io penserei a te come conduttore quindi ti chiedo che cosa ti piace particolarmente di Roma allora piccola premessa che sul palco siamo due band tutti quindi saremo in 27 a suonare quindi sarà la fiera del Flem allora io di Roma figura che Roma l'adoro però io sono uno che siccome mi piace molto la notte si vede che potrebbe essere anche un riferimento ai modà la notte a un loro singolo esatto sono un amante ovviamente dei locali ma quelli un po' segreti che poi ultimamente sono andati anche molto di moda quindi comunque quei localini occulti che fondamentalmente c'erano negli anni 30 durante il proibizionismo quindi a Roma ce ne sono parecchi di questi locali ce ne sono anche a Milano ma a Roma ce ne sono di più devo dire e mi piace oggi li chiamano speak easy però in realtà sono quei locali tu vai c'è la porticina nascosta oppure dietro un armadio si apre una porta se no altro locale ecco io adoro questo questo può raccontarne tanti di situazioni di questo genere ma ce ne sono un po' Francesco ti ringrazio per il tempo che hai trovato da dedicarci ovviamente non vediamo l'ora di vederti su quel palco so già che spaccherete ste guarda è sempre un enorme piacere lo sai quindi quando voglio per te ci sono sempre grazie te voglio bene grazie Radio Roma grazie oh forza Roma oh quando se vedremo quando se vedremo eh me lo devi dire te sei sempre in giro speciale Sanremo 2023 con Stefano Fisico